Via libera al piano d'ambito dei rifiuti e alla realizzazione del biodigestore a Chianche. Il documento della discordia passa in consiglio d'ambito con sei voti favorevoli e due astenuti. L'ultima parola spetterà ora all'assemblea dei sindaci, non prima di settembre, ma l'impianto di rifiuti nei vitigni del Greco di Tufo continua ad essere terreno di scontro. Appena una settimana fa il consiglio d'ambito non si era riunito per la mancanza del numero legale, su cui aveva pesato l'assenza dei sindaci vicini a Maurizio Petracca, Nunziante Piccariello, Marco Santo Alai e Costantino Giordano. Ieri proprio la componente vicina al consigliere regionale DEM, pur astenendosi al momento del voto, è stata determinante per il raggiungimento del quorum. Il ciclo di rifiuti va chiuso indipendentemente. Io mi auguro che la scelta dell'assemblea dei sindaci sia di non Chianche, perché io non condivido Chianche, sia un'altra obbligazione il cui sindaco accetterà, gli altri sindaci accetteranno, però una cosa è certa. Noi questo ciclo di rifiuti lo dobbiamo chiudere. Non possiamo pensare di voler pagare poco di spazzatura alla gente e poi vogliamo portare la spazzatura in Germania o in Alta Italia. Quindi dobbiamo anche crescere e prendere una volta per sempre le nostre decisioni e dire, amici cari, queste sono certe che vanno fatte. Insorgono gli ambientalisti alla sinistra, consiglieri incoerenti, dice Roberto Montefusco. Così si vessa un territorio già in sofferenza ambientale. Quanto è accaduto ieri dal nostro punto di vista è estremamente grave. La nostra provincia da settimane discuta delle risultanze dello studio spesso, che ci consegnano la conferma di un dato, ovvero che la zona della Valle del Sabato, dell'era industriale di Avellino, è una zona fortemente compromessa sul piano ambientale. Ebbene, di fronte a tutto questo c'è chi pensa di immaginare un'ulteriore pressione ambientale su quella zona, contro cui, ricordiamolo, c'è stata in questi anni una forte mobilitazione. Grazie.